L'assenza della famiglia, la pressione sociale, la propaganda dei trafficanti, il desiderio di fare nuove esperienze. Papa Francesco ha indicato in questi fattori alcune delle cause che portano alla dipendenza da droga. Ricevendo i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze su narcotici, problemi e soluzioni di questa piega mondiale, il Pontificia ha precisato che la droga è certamente una nuova forma di schiavitù e che quando si cercano le reti di distribuzione inevitabilmente ci si imbatte nella mafia che uccide quanti vogliono risolvere questa piaga. La ricerca di una gioia effimera porta oggi le persone a rimanere intrappolate in sostanze velenose che corrompono e uccidono. Per spezzare la catena del traffico di droga non solo si dovrebbe arginare la corruzione e il reciclaggio di denaro sporco, ma bisognerebbe anche frenare la domanda di consumo, anzitutto attraverso la formazione umana. La formazione umana, rivolta agli strati più vulnerabili della società, permette infatti agli individui di avere validi strumenti di discernimento.